ma quanto vi piace quando spendo soldi mannaggia a voi che poi mi fate fare questi video perché ragazzi oggi video posta da 200 euro partiremo prima da un'altra cosetta poi andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa busta bartolini che doveva essere in realtà una box o meglio speravo che arrivasse in una scatola aria così nella box qui già sento che sciacqua molto c'è una cosa qui una cosa qui speriamo bene e allora prima di andarci ad aprire la busta bartolini ci andiamo ad aprire questi tre pacchetti tutti e tre presi su vinted chiusi per il momento sembra abbastanza bene apriamo e andiamo a vedere il contenuto prima carta arrivata perfetta ed è ragazzi la numerata ovviamente su 35 laser di edoardo bove andiamo con la seconda busta sicuramente un pochino più come dire spartana ma ragazzi l'importante è che le carte all'interno arrivino messe bene quindi ragazzi alla fine sinceramente a me interessa poco che la carta mi arrivi in una busta di queste gialle imbottite mi può arrivare anche con un cartoncino piegato l'importante è che poi la carta arrivi protetta al meglio come in questo caso anche in questo caso numerata su 35 di leandro paretes vedete in questo caso un ragazzo me l'ha inviata con la top loader in questo caso no ma c'era veramente tanta tanta carta a proteggerla dai avrete già capito cosa c'è qui e quindi ci andiamo ad aprire anche la terza busta terza busta con un altro pacchettino all'interno devo dire dai oggi siamo stati anche molto fortunati e tutti i ragazzi molto molto attenti al packaging e dentro abbiamo eccole qui ovviamente la numerata su 35 di zaleschi e qui cosa abbiamo andiamo a vedere perché c'è anche qualcosina in più in realtà perché c'è lorenzo pellegrini cendur c'è michela cambiaghi c'è dragoni c'è berardi c'è matteo d'armian e c'è anche angelica soffia un piccolo omaggio che ci fa sempre piacere ragazzi proprio mentre stavo finendo di montare il video per farlo uscire mi sono arrivati due pacchi uno che quindi a questo punto ci andiamo ad aprire proprio in questo video e guardate qui a fianco maglia di magliaco.com ragazzi ovviamente repliche di altissima qualità arrivano con l'etichetta i dettagli sono secondo me la parte migliore di magliaco guardate qui i dettagli dei 125 anni ovviamente anche tutte le patch che sono relative a quella squadra e a quella competizione perché i ritiri sono dietro l'angolo stanno per cominciare quindi magliaco comincia a far uscire le maglie quelle che già sono uscite per la stagione 2024 2025 quindi che aspettate ragazzi la stagione ancora non è iniziata le maglie che cominciano a uscire già le trovate su magliaco.com e io vi ricordo che con il codice sc ovvero simone collector avete già il 10 per cento di sconto eravamo stati fortunati fino adesso questa busta non promette benissimo andiamo a vedere però dai la carta sembra all'interno di due cartoncini andiamo ad aprire speriamo che sia tutto in ordine e tra l'altro proprio nemmeno a fare l'apposta maglia del milan la carta di chi è ovviamente anche in questo caso è una parallel numerata arancione e ovviamente ragazzi di stefan e sharawi proprio l'ex giocatore del milan la numero 10 su 35 e anche questa ce la andiamo a mettere subito nel raccoglitore e quindi prendiamo ovviamente il nostro raccoglitore delle score andiamo alla pagina delle numerate perché ormai non le tengo più nelle top loader ma le metto qui nel raccoglitore e andiamo a mettere e sharawi e sharawi è la numero 160 bove la 159 quindi va a fianco a bove quindi rimettiamo dentro bove mettiamo anche dentro e sharawi e ragazzi non manca tanto è ci siamo quasi perché guardate comincia veramente a fare effetto a vederle così anche perché l'ultima è zaleschi quindi ce ne manca una due e tre che a memoria dovrebbero essere rui patrisio belotti e la terza che non ricordo magari ve la scrivo qui sotto e allora andiamo a vedere anche cosa c'è all'interno di questa busta di bartolini l'andiamo ad aprire così al centro qui ok il foglio perché ragazzi questo è un periodo un po intermedio come non mi piace questa busta ragazzi è un periodo un po intermedio non ci sono collezioni non ci sono collezioni che sto portando avanti quindi è il momento perfetto per andare a completare un po delle nostre collezioni è il momento perfetto per andare a completare le nostre collezioni perché i prezzi si abbassano un pochino si riesce a fare magari anche qualche colpaccio qui niente di che niente colpa ci ve lo annuncio due buste partiamo da partiamo da questa piccolina e allora partiamo da questa busta più piccolina tra l'altro ragazzi sto pensando di fare una bella spacchettata una bella spacchettata per quanto riguarda un box di 20 anni fa dedicato alla serie a se vi può piacere l'idea fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché a me stuzia un po l'idea di andare a rivedere quei campioni della serie a fino a quando la serie a veramente era come la premiere attuale dove c'erano proprio i grandi campioni mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti e quindi andiamo a vedere sì l'ho preso da questo sito ragazzi ovviamente non è una sponsor andiamo a vedere insieme e ce l'ho fatta ci andiamo a vedere questo lotticino di carte pokemon lo sapete sto portando avanti la collezione di 151 tra l'altro anche un po di l'orcana ora vediamo tutto insieme partiamo da queste pokemon sto finendo ragazzi la collezione di 151 collezione che sta diventando sempre più difficile master set che sta diventando sempre più difficile da completare per un semplice fatto ovvero che i prezzi ragazzi sono andati alle stelle mi raccomando attenzione ad acquistare perché secondo me questa è un aumento un po passeggero anche perché ci si affida troppo spesso e troppo facilmente a card market ma cosa è successo secondo me che qualcuno ha fatto il furbetto si è comprato o semplicemente ragazzi su card market basta metterlo nel cestino le carte che rimangono disponibili sono solo quelle magari da 130 euro e quindi poi il prezzo sembra veramente quello ad esempio parlo del charizard ma qui mi sono andato a prendere qualcosina niente di che che mi mancava a dei prezzi sicuramente molto molto più umani questi erano i prezzi secondo me normali e giusti a cui acquistare anche un po di reverse quindi come vedete questo è un periodo nel quale mando avanti un po le collezioni che ho fatto durante l'anno che mi sono rimaste un po a metà stesso discorso qui qualcosina di l'orcana questo è il secondo capitolo anche del secondo capitolo tra l'altro queste foil non so se l'avevo ordinata io o me l'hanno messa loro qui qualcosa invece della 3 e quindi dicevo ragazzi questo video sarà affatto bellissima questa peccato che ancora non mi era uscita ma finalmente ce l'ho secondo me questa una delle artwork veramente più belle di l'orcana mi piace tantissimo e dicevo questo video ragazzi poi lo farò anche per quanto riguarda adrenaline e le altre collezioni riguardanti i calciatori che abbiamo portato avanti durante l'anno quelle che ancora non ho finito perché qualcosina ragazzi ancora l'abbiamo da finire tra l'altro l'avete visto ho messo un post anzi avevo messo una storia su instagram dove chiedevo se c'era qualcuno che aveva le score mancanti e ragazzi ve lo anticipo perché l'ho trovato intanto qui un po di bustine di l'orcana della seconda edizione e ragazzi magari di queste ci andiamo a fare un video dedicato anche perché queste sono 9 buste e saranno le ultime 9 bustine che aprirò di questa collezione del secondo capitolo anche perché cominciano a diventare veramente introvabili e non mi andava di comprare un box intero perché ho spacchettato tanto avevo voglia di spacchettare in questo periodo come dicevamo che non ci sono collezioni quindi mi spacchetterò un po all'orcana magari vediamo se ci faccio un video quindi che dire ragazzi per me il video di oggi può finire qui come vedete questo è il periodo perfetto per completare le vostre collezioni magari quello che vi è rimasto un pochino più indietro e come sempre condivido insieme a voi quello che acquisto si 200 euro diciamo totale tra una cosa e l'altra però secondo me ci stava attenzione sempre ai prezzi come ad esempio per 151 il mio consiglio magari è quello anche se è un pochino rischioso di aspettare perché magari qualcosina si smuove anche perché la stessa carta la stessa identica carta per la stessa identica collezione ma di un'altra nazionalità costa molto molto di meno detto questo ragazzi a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che come sempre arrivato alla fine del video e io vi auguro buona giornata e buona fortuna con i spacchettamenti grazie